Quali possono essere le conseguenze di un errore di laboratorio? La fine del mondo, ovviamente. Il virus elaborato dagli scienziati sul modello di quella influenzale sfugge al controllo e si diffonde con rapidità micidiale. Solo pochi uomini sopravvivono. No, non stiamo parlando del Covid, ma stiamo parlando di Captain Trips e questa è L'ombra dello scorpione. Grandissimo romanzo di Stephen King del 1978 pubblicato in America con il titolo The Stand. Un giorno, anzi una notte, c'è chi inizia a fare strani sogni dove ci sono personaggi sinistri che attraggono con richiami discreti e irresistibili. C'è l'uomo senza volto, Randall Flagg, e c'è, dall'altra parte, Mother Abigail. Li invitano a seguirli e a riordinare ciò che rimane della società secondo modelli rinnovati. Attraverso un ricco campionario di protagonisti, buoni e cattivi, e tramite 900 pagine di narrazione, Stephen King mette in campo l'eterna lotta tra bene e male, con la prospettiva che questa però sia la battaglia definitiva. Ebbene sì, stiamo parlando di uno dei più grandi romanzi di Stephen King, una delle sue opere considerate tra i capolavori del re del brivido. Non è un caso che un grande autore pubblichi sostanzialmente tutti i suoi più importanti lavori, soprattutto nei primi anni di mestiere, di pubblicazione. Questo è vero anche per Stephen King, sebbene poi abbia avuto un'amplissima produzione. Ma prima di continuare vi ricordo che io sono Fabrizio Valenza, scrittore e filosofo, e questo è il mio canale, Narrazioni e Vita. Vi invito a iscrivervi. Quando vi sarà piaciuto questo video, perché effettivamente vi sarà piaciuto, vero? Potrete mettere il mi piace, se vorrete, e poi potrete comprare il libro di cui vi vado a parlare, nonché il mio gotico L'Isola dei Morti, attraverso il link che vi indico qui sotto in calce a questo video. Ma andiamo avanti. Affrontare un'opera come L'Ombra dello Scorpione è difficile e mette a dura prova chiunque voglia parlarne senza doversi rifare ai soliti luoghi comuni. C'è la lotta appunto tra il bene e il male, in primis, che è un abusato cliché fantasy. E però nel romanzo di Stephen King diventa un motivo di intreccio a più livelli. Innanzitutto bisogna dire che il romanzo è diviso in tre parti. L'inizio della storia è minuzioso e coinvolgente, come nello stile quasi perfetto dello Stephen King degli inizi. La prima parte, appunto intitolata Captain Trips, si sofferma sull'espandersi di un'epidemia sfuggita dal laboratorio. Di portatore in portatore viene descritto il modo in cui il virus si diffonde. Lo sterminio è pressoché totale, però ci sono alcuni che riescono a sopravvivere perché sembrano essere immuni allo stesso. Si può immaginare che il virus arrivi in tutto il mondo, anche se Stephen King, come ogni buon americano, riduce il punto di vista all'America del Nord, però qui diamo per scontato che effettivamente la diffusione sia planetaria. La seconda parte, invece, del romanzo sul confine vede l'entrata in campo del sovrannaturale, con il trasferimento del racconto dall'ambito puramente sociologico-scientifico a quello della realtà ulteriore. Basti un brano che vi lecco da pagina 347 per comprendere di che cosa si tratta. Scusate, mi devo mettere gli occhiali perché altrimenti sono orbo. Ed eccolo qui. Quella notte Nick sognò l'uomo senza volto, ritto in cima al tetto, le mani tese verso est e poi il gran turco, gran turco più alto di lui e il suono della musica. Solo che questa volta sapeva che si trattava di musica e questa volta sapeva che a suonare era una chitarra. Si svegliò che era quasi d'alba, con la vescica piena e dolente e le parole di lei che gli eccheggiavano nelle orecchie. Mother Abigail mi chiamano, vieni a trovarmi quando ti pare. Ebbene sì, attraverso i sogni che il sovrannaturale fa il suo ingresso nella storia. La storia si sviluppa lentamente verso l'epica, perché è un tono epico quello che assume questo romanzo, tanto che in molti passaggi ricorda il Signore degli Anelli e lo sviluppo del Signore degli Anelli. Credo anzi che sia effettivamente uno dei riferimenti impliciti di questa storia. Il sogno, dicevamo, il sogno nel quale la realtà si fa più viva in tutta la sua profondità. L'uomo senza volto, chiamato anche l'uomo che cammina, che è un personaggio che ritornerà poi in varie storie di Stephen King, ovvero Randall Flagg, da una parte. Dall'altra parte c'è però il bene, Mother Abigail, che attende senza forzare e canta. Lei attrae attraverso il canto, quasi ricordando un po' il canto delle sfere celesti e quindi il motore immobile che attira a sé. E poi c'è questo particolare nel brano che ho letto, della vescica piena e dolente. Non deve stupire il fatto che io abbia inserito questo elemento tra gli elementi caratteristici del romanzo, perché la necessità, la necessità umana è proprio al centro della storia ed è una necessità umana che comprende tutto, beni alimentari, medicine, compagnia, sicurezza, relazioni, bisogno di accudimento, bisogno di conferma, ma così anche le passioni più basse dell'essere umano. Infatti in questo mondo che viene rappresentato da Stephen King l'umanità si contrappone polarmente. Da una parte quelli che si raggruppano a Las Vegas, appunto guidati da Randall Flagg, che assommano in sé tutte le nefandezze peggiori della sopraffazione e della malvagità umana. dall'altra parte invece i sopravvissuti che si sentono guidati da Madra Bagheil, che tentano di ricostruire una società all'interno di un mondo che ormai sembra destinato alla perdizione e alla conclusione umana finale, totale. Il virus rende i sopravvissuti consapevoli dunque di ciò che è veramente importante ed è a partire da questa situazione che Stephen King ci mostra il modo in cui può reagire l'animo umano, perché c'è chi può reagire pensando di mettere finalmente a frutto le proprie capacità dedite alla malvagità, alla cattiveria, alla sopraffazione, all'oppressione, e quindi veramente al male nella più alta accezione, chi invece pensa che la cosa migliore che si possa fare anche in questa situazione apocalittica o post-apocalittica sia tentare di ricostruire quello che di buono era stato vissuto prima dell'apocalisse. Ecco, una cosa che colpisce di questa storia è che la piccola società che viene ricostruita dai buoni, diciamo così tra virgolette, non è una società imperniata sui grandi valori tradizionali di un'epoca passata. a me verrebbe in mente di costruire una società, per esempio, che ha un capo in cima, che riesce effettivamente a coordinare le cose affinché possano fruttare al meglio, un po' come sostanzialmente era nel Medioevo, oppure in un'epoca in cui un'elite di aristocratici può effettivamente condurre la società verso lì di migliori, per poi eventualmente prospettare la possibilità di una nuova democrazia. Invece qui l'approccio è proprio quello della democrazia, cioè si vuole ricostruire la democrazia, implicitamente si dice la democrazia è il bene assoluto. È una cosa che io trovo personalmente un po' discutibile, perché se c'è una cosa che abbiamo visto in questi ultimi decenni è che la democrazia è certamente il migliore dei sistemi politici possibili nel mondo moderno. Tuttavia mostra le sue imperfezioni e le sue fragilità. Sembra che però Stephen King voglia dirci proprio questo, che è attraverso le fragilità di questa democrazia che è possibile comunque lasciare lo spazio più ampio possibile al bene che si fa strada nell'animo umano. Randall Flagg, dicevamo, costituisce il polo negativo. Ed è lo stesso Randall Flagg di cui parla la Torre Nera, il ciclo fantasy importante di Stephen King. Nel romanzo sono contenute varie comprensioni di ordine metafisico del fenomeno Randall Flagg, però viene mostrato in vari modi, insomma, e ogni personaggio negativo ma anche positivo in realtà si approccia a Randall Flagg e alla sua presenza inquietante in vari modi, reagendo in diversi modi, e lo vede un po' rappresentato secondo la propria coscienza. Però sappiamo bene, insomma, chi sia Randall Flagg, sostanzialmente è Satana. Tant'è vero che Madra Begail, che gli si contrappone, è una sorta di profetessa dell'Antico Testamento, guidata dal Dio Cristiano. A differenza di Flagg, però, lei non obbliga a far nulla, semplicemente attrae, come dicevamo. Se Flagg instaura poco alla volta un ordine fatto di imposizione violenta, di obbligo e di promesse fuori misura, Madra Begail invece affascina, non è coercitiva, soprattutto non dà alcuna certezza, dà solo speranza. E forse questo, Stephen King ci dice, è la cosa necessaria, la speranza, per poter ricostruire un mondo che riesca a sopravvivere in realtà agli aspetti più oscuri dell'umanità. Nel modo in cui Randall Flagg e Madra Begail attraggono verso poli opposti, poi si potrebbe vedere l'impianto naturalista che permea in buona parte la visuale di Stephen King. Il suo naturalismo, di cui parla approfonditamente Heidi Strangel in un suo saggio che si intitola Dissecting Stephen King from the Gothic to Literary Naturalism del 2005, diventa la condizione sine qua non per far emergere il soprannaturale. Come dire, una volta che io ti rappresento il mondo nel modo più naturalistico possibile, quindi anche la diffusione del virus nel modo più realistico, più fisico possibile, ecco che ti faccio vedere dove si infila, da dove spunta fuori tutto ciò che invece non si può controllare, da dove nascono le nostre paure. La tensione tra determinismo e libero arbitrio è uno dei perni importanti di questo romanzo. Da questo punto di vista il modo di trattare la materia nel romanzo riproduce alla perfezione il contrasto nel quale l'essere umano ha sempre vissuto, perché l'orrore nasce dalla visione deterministica del mondo e dal suo naturalismo letterario, cioè il virus è un prodotto del determinismo scientifico dell'essere umano. E in fin dei conti potremmo chiederci, non è proprio questo il desiderio di Satana, cioè quello di farci credere che ci sia chi ha già deciso per noi, permettendo in questo modo alla nostra coscienza che è sempre in vivico sul baratro del dubbio di cadere in una depressione dell'anima e dunque di essere fatalista, di diventare fatalista? In fin dei conti credo di sì, cioè se io penso che tutto sia predeterminato non ha veramente importanza ciò che io scelgo, le mie scelte morali sono in qualche modo guidate predeterminate anch'esse. Sono esattamente queste le domande e le paure che coinvolgono i protagonisti dell'Ombra dello Scorpione. La terza parte poi del romanzo è intitolata La Resistenza e mette in scena ancora una volta l'inevitabile. I sopravvissuti hanno raggiunto chi li attraeva in sogno, quindi da una parte si sono focalizzati attorno a Randolph Lake a Las Vegas e dall'altra parte invece a Boulder dove Madra Begail li ha guidati al suono della chitarra, diciamo così, e della sua voce. C'è ancora tanto da fare, c'è ancora tutto da fare in realtà, c'è ancora da combattere, c'è da sperare e impegnarsi personalmente affinché il diavolo non costituisca più una minaccia per questo mondo. Ed è qui che in realtà la storia assume i suoi toni più epici, perché si tratta proprio del contrasto molto, se vogliamo, anche manicheo tra il bene e il male. Tutta la terza parte è attraversata da questa tensione per lo scontro, perché da una parte c'è Las Vegas che vuole far fuori l'enclave di bene, che si è data una forma democratica appunto per poter sopravvivere nel caos generale. E quale può essere la paura peggiore del nostro mondo oltre a un virus che diventa pandemico e che uscide buona parte della popolazione? L'abbiamo visto nel nostro piccolo, anche con la nostra pandemia di Covid. Dopo la pandemia di Covid viene fuori il terrore nucleare. E infatti anche nel romanzo di Stephen King si ordigna questo tipo di minaccia. C'è una bomba atomica che viene nascosta tra i buoni, perché anche tra i buoni ci sono ovviamente i traditori, che la devono far detonare sostanzialmente a Boulder per eliminare definitivamente quel che rimane del bene. Cosa può portare dunque alla vittoria del bene? Ovviamente non ve lo dico, non posso dirvelo, vi consiglio di leggere le 900 pagine di questo romanzone perché ne vale la pena e sicuramente non vi scorderete più di una delle più belle storie di Stephen King, come è successo sostanzialmente a tutti quelli che l'hanno letto. Faccio un'ulteriore postilla sui personaggi. I personaggi sono davvero indimenticabili. È impossibile soffermarsi su tutti perché sono davvero tanti. Correrei il rischio di trascurarne anche di importanti, magari dando spazio ad alcuni di essi. Dirò soltanto una cosa, perché ormai questo video si è già fatto abbastanza lungo. Quando si finisce il romanzo, si rimane con l'amaro in bocca, perché ci si è affezionati così tanto ad alcuni di essi che l'impressione conseguente alla loro perdita è di aver perso degli amici, di essere in lutto per alcuni di loro. Per esempio questo è quanto è accaduto a me nell'estate in cui l'ho lessi, diversi anni fa ormai. Però mi si è permesso di fornire una mia chiave personale della funzione dei personaggi all'interno di questo romanzo. Stephen King risponde alla questione che sollevavo riguardante la tensione tra determinismo e libero arbitrio, proprio tramite i personaggi che mette in scena. Il libero arbitrio, guardate, si agisce nella volontà instancabile di dimostrare dove sta il bene al costo della propria vita. Cioè, cosa significa questo? Significa che attraverso tutto ciò che viene orchestrato e che in buona parte è effettivamente predeterminato dal modo in cui si sono sviluppate le cose, il libero arbitrio viene mostrato proprio nella volontà di chi fa parte dell'enclave del bene di mostrare quanto sia possibile in realtà agire per il bene. Ecco, il libero arbitrio è tutto lì, il voler fare il bene a dispetto di tutto. Sappiamo bene però che di queste cose è sempre difficile parlare senza correre il rischio di risultare poco convincenti o comunque troppo teorici. Perciò non posso far altro che invitarvi a leggere L'ombra dello Scorpione di Stephen King che qui penserà ad accompagnarvi per mano fino alla fine del mondo e a farvi entrare nel mondo che verrà. Se vi è piaciuto questo video mettete il mi piace, acquistatelo attraverso il link che vi indico qui sotto e ciao al prossimo video.